CNA si dota di uno sportello unico che racchiude un vero e proprio pool di esperti. Stiamo parlando di uno sportello che si affiancherà a quel pool di esperti appunto di cui parlava, che vanno dall'ingegnere, esperto in impianti elettrici, che qui con me ha l'archeologa. Faccio l'esempio dell'archeologa perché credo sia significativo del servizio che vogliamo offrire. Cioè un servizio a 360 gradi che si aggiunge ai servizi già offerti da CNA, che vanno dal credito alla contabilità alle paghe e che sarà in grado di dare la giusta informazione, la corretta informazione alle imprese che mettono e partono con una nuova attività o imprese che hanno già un'attività e che hanno necessità di fare adempimenti amministrativi o di altro tipo. Spesso c'è il famoso rimpallo, uno va in un ufficio, viene rimandato in un altro ufficio e alla fine magari anche con pareri contraddittori. Vorremmo poter fare evitare tutto questo a chi si rivolge a noi. Come funziona questo sportello? Attraverso un contatto con l'ufficio del CNA di Spezia sostanzialmente o di Sarzano o delle altre sedi territoriali si ha la possibilità di avere un rapporto con i professionisti che servono per la specifica necessità nel momento in cui devono intraprendere la loro impresa. Quindi lo sportello si avvale di professionisti con caratteristiche diverse sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista urbanistico, impiantistico, legati alla sicurezza. Tutte queste problematiche che sono quelle che poi in qualche modo condizionano l'apertura di una determinata impresa.